Riprendiamo un discorso di circa tre anni fa, parliamo del canile di Teramo. Franco Fracassa l'ha riportato all'argomento in Consiglio Comunale, mancano solo le risposte, come allora? Sì, sono cinque anni che mi impegno, mi sono impegnato in Consiglio Comunale cinque anni per portare sollecitudine all'amministrazione comunale affinché prendesse decisioni inerente alla questione, le problematiche dovute alla gestione, mancata gestione del canile Carapollo municipale e dei cani che sono rifugiati fuori comune in un canile privato a pagamento ormai da oltre dieci anni. La storia risale da lontano, da oltre dieci anni quando venne elevata la gestione all'allora IZS che gestiva anche discretamente, ricordiamolo, oltre 3 milioni e 400 mila euro, una questione legale di crediti esigibili da parte di IZS e non sappiamo ancora se il comune ha saldato. Da quel momento in poi nel centro-destra e nel centro-sinistra, prima il centro-destra e ora da sei anni il centro-sinistra ha invertito la rotta prendendo consapevolezza e coscienza di una problematica che ormai risale da tanto tempo e non è stata mai affrontata. Qual è la realtà dei fatti? Mancanza di vigilanza da parte del comune di Terramo? Come si possono pagare per cani che sono deceduti? Come si possono pagare per cani che sono stati in affido? Allora qui dovremmo aprire un capitolo, ci dovremmo sedere, c'è tanta carne al fuoco, tanti argomenti, tanti temi, tante questioni aperte. Sì quella dei microchip è una questione ma altrettanto vero che l'Asli Terramo fa il suo dietro mandato dell'amministrazione comunale o meglio è il sindaco che dà indicazioni in merito alla gestione sanitaria sia dei cani che degli animali d'affezione. E qui l'amministrazione cade in errore perché da oltre il 2020 non solo mancato miglioramento e adeguamento della gestione di Carapollo da parte dell'amministrazione ma neppure hanno lasciato anche nei cassetti proposte finanziarie da parte dei privati che prevedevano il miglioramento, l'efficientamento del canile stesso, l'abbassamento dei costi e il favorire campagne di adozioni serie. Provate oggi ad andare a recarvi presso il canile Carapollo, troverete chiuso o se trovate aperto non vi faranno entrare. Ecco questa è la malagestione, una gestione del tutto paga perché l'attuale gestore da parte del comune è stato affidatario diretto senza gara pubblica e da allora non si è rifatta neppure una manifestazione di pubblico interesse. Sono 3,05 euro ogni giorno, ogni cane ha un costo medio di 1.290 euro l'anno, solo nel 2023 470.000 euro spesi per la gestione canina e non abbiamo un orizzonte, non abbiamo una strategia. Ecco perché ho rinnovato la mia proposta, lo feci in consiglio comunale ovvero quello di andare incontro a delle agevolazioni fiscali anche perché il comune stesso sarebbe il primo beneficiario di tutto questo poiché a fronte di una spesa annua di 1.300 potrebbe sgravare l'Atari di 3-400 euro e in questo caso trasformerebbe un'economia impropria e quindi un passivo in bilancio in un'economia reale mettendo i soldi in tasca ai cittadini. La sintesi, diamo voto sulla vigilanza del comune di Tenor per quanto riguarda il canile da 1 a 10. Meno 0.